Bravissimi ragazzi, una partita di grande carattere in una settimana non facile di gestione, vuoi per qualche assenza e vuoi anche per aver dovuto gestire qualche acciacco, quindi veramente bravissimi ragazzi con uno spirito giusto, atteggiamento giusto per tutti i 40 minuti, essere avanti tutta la partita è stato un segnale e direi che comunque aver tenuto Sansevero a 60 punti a un minuto alla fine insomma sia veramente un grande risultato per noi con un ottimo approccio difensivo ma anche con delle buone giocate d'attacco, quindi sono contento per i tifosi che stasera sicuramente hanno partecipato e ci hanno dato una spinta e vorrei ringraziare lo staff sanitario, i fisioterapisti e il preparatore perché comunque qualche acciacco che avevamo hanno fatto di tutto per rimetterceli a posto. Oggi è una partita veramente gagliarda, giocata bene dal primo secondo al quarantesimo, siamo stati sempre in vantaggio, poi contro una formazione, una signora formazione, anzi io voglio fare complimenti a Sansevero, al coach, alla società, a tutti veramente hanno allestito quest'anno una formazione meritevole della classifica che occupano, quindi vincere contro Sansevero assolutamente non era facile vista la grandiosa vittoria di Sansevero domenica scorsa contro la Corazzata Verona. Oggi io voglio fare un applauso a tutti i giocatori, al coach, a tutto lo staff, ai sanitari, ai fisioterapisti, soprattutto a una grandissima fossa bianco-rossa, veramente oggi i tifosi sono stati esemplari, ecco io vorrei sempre questo tipo di tifo qui al Palatricalle, io oggi voglio ringraziare tutti perché abbiamo fatto una prestazione, permettetemela, oggi sontuosa, quindi senza sbavature. No, l'abbraccio col coach è stata una liberazione, purtroppo venivamo da tante partite perse anche in maniera tra virgolette brutta, questi ragazzi si stanno impegnando, c'è tanta benegazione nel lavoro di tutti i giorni in palestra e credo che questa vittoria è il coronamento di tutto quello che stiamo facendo sia noi come società con i sacrifici e soprattutto i giocatori di quello che ci stanno mettendo, ecco in mezzo al parquet oggi si è visto, veramente un grazie a tutti. Grazie a tutti.